buonasera non posso bere ho dimenticato l'acqua e adesso sono incatenata con il filo del microfono perciò ho mandato matte a prendermi da bere allora buonasera a tutti anche stasera niente preavviso un po vengo alla sera un po al mattino sono come il natale quando arrivo arrivo vabbè si dice così allora beh intanto sta arrivando aspetto ancora qualche minuto poi vi racconto la mia colazione di domani che di nuovo ho già fatto perché sono una ragazza che si porta avanti ma che brava mentre faccio cadere cose oggi faccio cadere cose sapete ognuno dei talenti no io faccio cadere cose ciao maria teresa posso bere se passi non succede niente ciao wow che donna è barbara tu sì che ci vedi lungo guarda allora ciao maria allora visto che comincia venire un pelo più caldo e anche se non fa caldo però mi viene voglia di provare cose nuove e cose allegre e per domani ho messo su una roba veramente goduriosissima che ho già assaggiato e anche la mia maglia l'ha assaggiata detto che era buono e allora che cosa ho fatto che cosa ha fatto è un frull una specie di smoothie è che volevo tanto assaggiare in diretta poi lo assaggio lo stesso cosa ho messo dentro al mio banalmente frullato ci ho messo una banana un bel cucchiaione di burro d'arachidi ciao fra ciao valeria ormai sei fra perché nel tuo nome c'è fra e anche se sei francesca e non ci siamo mai viste e per me sei fra come vi dicevo una banana un bel cucchiaione di burro d'arachidi avrei potuto mettercene di più ma indovinate ho finito il burro d'arachidi e poi ci ho messo a 5 7 grammi ciao moira di cioccolato fondente mi pare al 78 per cento e l'ho frullato tutto e già era buono così ma io che sono una come si dice una partita dei semi di chia che sono qui i semi di chia ce l'ho aggiunti qui ce l'ho aggiunti pochi e non ve lo faccio si vedono un pochino ma non ve lo faccio vedere perché sono bravissima a rovesciare le mie colazioni e l'ho già fatto molteplici volte facendolo vedere la prima volta l'ho fatto rovesciando il caffè proprio vabbè e poi ho chiuso e ci ho aggiunto un cucchiaio ne aggiungerò magari non è adesso proprio un cucchiaino per fare la foto ne aggiungerò qualcuno in più e lo mescolo bene così domani mattina avrò un bel frullatone spesso che mi sazierà a lungo colazione non troppo adatta se siete persone che amano morsicare perché comunque è vero che è sostanzioso ma è anche vero che non mangiate quindi potrebbe fregarvi un po perché dentro ci sono le arachidi c'è la banana cioè è bello ricco no e ciao simona e quindi il rischio è un po quello di insomma di di sembrarvi che avete mangiato poco però intanto usate il cervelletto e pensate a quello che state facendo e comunque in effetti bevendolo secondo me questo sazia parecchio è lo assaggiamo lo assaggiamo cosa dite lo saggio ciao angela dai aspetto che mi diciate se posso assaggiare tanto non lo farò mai se voi non mi dite che posso l'odore buonissimo cioè banana arachidi e cioccolato e sì della fra detto di sì quella ragazza che non so chi è fra e tu vieni assaggiarlo allora barbara dice che ha comprato la chia visto che la uso non l'ha ancora assaggiata e non sa se le piace allora barbara aspettate puoi anche entrare a salutare ciao e tra un po prima visita a ottimo francesca bene ti conosci conosceremo buono vero buono buono e cosa vi volevo dire dei semi di chia è buono davvero non ti fidare no cioè vi rendete conto che ha detto un buono è buono davvero ma non si fa così davanti a tutti no no tranquillo era molto buono non ci arriva domani questa colazione ve lo dico io è aperitivo è diventato un aperitivo e comunque i semi di chia semi di chia per gli amici sono un ottimo alimento perché hanno tantissime fibre poi hanno allora è una pianta herbacea originaria del centro sud america i suoi semi sono fonti di proteine ricchi di acidi grassi omega 3 omega 3 ad alto contenuto di fibre allora non ti fissare non ti fossilizzare sul gusto barbara perché non ti piacessero proprio tal quali puoi utilizzarli come ingredientistica in tantissime ricette puoi buttarli nell'insalata puoi metterli nel pane puoi metterli banalmente nei frullati o nel muesli oppure fare proprio il budino che in realtà io lo chiamo budino ma non è un vero budino perché rimane una consistenza non proprio solida e neanche cremoso però vi dico la verità è è un ottimo agente lassativo quindi se avete un po di quei problemini vi aiuta con la regolarità magari ve lo fate una o due volte a settimana funziona nutrizionalmente è bello ricco ma tanto noi non è che ne usiamo uno o due cucchiai non è che ne usiamo e ha 32 grammi di grassi quindi non vi spaventate per i grassi tanto 100 grammi non li mangerete mai contate che questa confezione qui che non è piena però era piena è 250 grammi come pensate di mangiarla non ce la fate a me non piacciono nemmeno le budino nel pane e catterina ognuno però almeno l'hai provato e poi grassi saturi ne ha 3,6 quindi capite bene che rispetto alla quantitativo di grassi totali è un ottimo prodotto e ha ben 20 grammi per 100 grammi di acido alfa linolenico che è un omega 3 quindi ottimo antinfiammatorio è molto utile per non so da dove partire per troppe cose ma se fossi si spiccia vi posso il suo video così non mi sbatto poi carboidrati ne ha 1,6 grammi quindi praticamente niente di cui zuccheri 0,9 sì ma li mangio lo stesso magari mi abituo catterina mettili pochi insieme a cose che ti piacciono tanto così non ci sentirai troppo il gusto se vuoi proprio provare visto che per carità fai bene poi proteine ne ha 23 grammi quindi è un bel alimento ricco e fibre ne ha ben 32 grammi motivo per cui come vi dicevo vi spuncia aiuta il transito vabbè raga però guardate che sono in tante persone che vengono da me con questo tipo di problema magari non primario ecco però magari mi dicono sì faccio un po fatica tante già con la colazione mi hanno detto che si sono regolarizzate perché comunque le mie colazioni sono molto ricche di fibre sicuramente più di fette biscottate e biscotti non secondo stronzifero è un po che non lo vediamo stronzifero bisognerebbe richiamarlo fa simpatia io ci sono e devo forse se lo dico il suo nome troppe volte spunta fuori come beetlejuice e eralda non sa chi è beetlejuice qui apro e chiudo parentesi fine fine non voglio commentare altro la licenzio e in tutto questo direi che vi ho detto abbastanza sui semi di chi ha visto che sono i miei semi chiamiamolo eh nucio adesso vediamo se si presenta quello lì sai non è che sta aspettare me non lo so se c'è chi dice chi ha c'è chi dice cia non so chiamatelo un po' come volete basta che voglio mangiare e niente io vi direi che per stasera ne abbiamo dette di cose che dite ciao luisa è l'ora di arrivare luisa ti pare direi che noi ci vedremo in una di un'altra diretta in questi giorni e per il momento direi che è tutto se vi è piaciuta questa colazione condividetela così possiamo trovare altre persone che mi trovano malmessa e bianca visto che oggi non mi sono curata minimamente della mia persona quindi vi prendete come sono e ascoltatissimi di chi ha io per stasera vi ringrazio di essere stati con me e vi saluto ci vediamo domani ciao